Lei è un'ameticcia di due mesi, si chiama Birba e sarà una futura taglia media. Lei è nata qui con noi in associazione perché un signore della nostra zona purtroppo è deceduto e aveva una cagnolina incinta. Ci siamo presi a carico questa cagnolina e sono nati questi fantastici cucciolini e lei è l'ultima della cucciolata che cerca ancora casa. Il nome di Birba è nato dal suo carattere, è una birbante, è sempre giocosa, mi piace tantissimo il contatto umano, lo cerca sempre, è una coccolona. Se vi siete innamorati di Birba, chiamateci, Birba vi aspetta. Ma è un fagottino delizioso, ma avete visto cosa non è questo Birba? Eh sì, sono sicura che state già prendendo tutti il telefono. E non c'è una cosa più bella che crescere un cucciolino. Tenerlo tra le braccia, vederlo diventare grande, seguirlo nei suoi giochi e poi nella sua maturare diventare un bel cane adulto perché Birba diventerà un bel cagnolotto. Quindi vi do subito il numero di telefono per adottare Birba. Dovete chiamare il 320-4343-174